di formazione che Agid realizza sulla transizione digitale. Abbiamo avuto molte iscrizioni a questo evento quindi aspettiamo qualche minuto perché tutti possano collegarsi e poi iniziamo questa attività che ha un programma abbastanza intenso. Vi ringraziamo per l'interesse che avete dimostrato iscrivendovi a questo evento significa proprio che è un'attività, una tematica che è sicuramente attuale e che riscuote grandi interessi. Questo seminario online fa parte di una serie di webinar realizzati nell'ambito del progetto informazione e formazione per la trasformazione digitale per l'attuazione del progetto Italia Login la casa del cittadino che è Agid, realizzato da Agid a valere sul Pong Governance Capacità Istituzionale 2014-2020. Vedo che state già utilizzando la chat, vi chiedo di utilizzarla per darci un feedback sul fatto che ci sentiate e ci vediate correttamente ma soprattutto per interagire, non sarà un webinar interattivo ovviamente perché visto l'elevato numero di partecipanti però vi chiediamo di utilizzare la chat per porre domande ai relatori che risponderanno al termine dei loro interventi nella fase finale di questo webinar che si concluderà alle 11.30 e noi serve molto che la vostra partecipazione attiva anche in chat per chi ci serve per capire quali sono gli elementi di maggiore interesse, le tematiche, gli aspetti che hanno necessità di chiarimento che ci serviranno poi per pianificare anche gli interventi successivi che pensiamo di realizzare a partire dai primi mesi dell'anno prossimo. Quindi il webinar di oggi è formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che cosa cambia con le nuove linee guida di Agid e con il regolamento dei servizi di conservazione, quindi faremo una serie di approfondimenti su aspetti specifici delle linee guida che entrano in vigore a partire dal prossimo primo gennaio. Gli interventi sono di Pietro Falletta, come avrete visto nel programma, Pietro Falletta, Patrizia Gentili, Gaetano Bruno e Luigi Avena che approfondiscono aspetti diversi relativi alle linee guida. Quindi vi chiediamo di partecipare segnalandoci eventuali temi di approfondimento e speriamo che il webinar sia di interesse per tutti. Le prossime attività saranno promosse sia sui canali istituzionali di Agid, di Formez, sui canali social e comunque sul sito Eventi.pia vengono pubblicate tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto Transizione Digitale, che si occupano appunto delle tematiche della Transizione Digitale nella pubblica amministrazione, rivolte non principalmente ai dipendenti pubblici, ma aperte a una platea più ampia. Abbiamo già un numero consistente di partecipanti, mi pare che il feedback sia positivo, nel senso che mi sentite correttamente, spero che sia così per tutti i relatori. Quindi io a questo punto darei direttamente la parola a Pietro Falletta per il primo intervento sulle linee guida agide nel sistema delle fonti, in maniera tale da iniziare con i diversi interventi. Grazie a Pietro. Io disazio la mia webcam. Buongiorno a tutti, vedo che siete numerosissimi. Io sono consulente del servizio documentale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il vocente dell'Università di Lewis, mi occupo quindi sia da un punto di vista accademico ma anche da un punto di vista poi molto pratico in loop-in, in agide, di temi strettamente giuridici. Quindi non sono un tecnico, ma in questo seminario che è molto ben strutturato, devo dire, avrete oltre a questo mio contributo generale sui temi giuridici che riguarda in particolare la collocazione delle linee guida nel sistema di agide, nel sistema delle fonti, poi avrete ovviamente anche delle nozioni più tecniche affidate ai miei colleghi che entreranno poi nel merito delle norme che entreranno in vigore del primo gennaio. Il mio compito è quello di introdurre, appunto distendo anche la prima relazione, il tema degli atti normativi adottati da ultimo dall'Agenzia per l'Italia Digitale che non è un tema scontato visto che, come immagino tutti voi abbiate studiato nei libri di scuola e di università o comunque abbiate praticato nell'ambito delle vostre attività e le fonti di diritto di regola sono una prerogativa di soggetti che hanno un rapporto di responsabilità politica con i cittadini o fra di loro, quindi Parlamento e Governo, ovviamente in primo luogo. tradizionalmente strutture diverse da quelle che appunto sono collocate nell'ambito del circuito della rappresentanza politica non possono adottare normativa a carattere generale, proprio perché appunto manca questo rapporto di rappresentanza. In realtà da qualche anno, in particolare dal 2017, ad Agil, l'Agenzia è stata attribuita un potere normativo considerevole, considero, l'ho detto anche in altri seminari, in altre occasioni, certamente rivoluzionario quello che è stato fatto con la riforma del CAD del 2017 e in particolare all'interno dell'articolo 71 del CAD, come riformato appunto 2016-2017 per la verità, in cui all'interno del quale si riconosce all'Agenzia una fortissima competenza normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Non soltanto questo articolo 71, se si va a scorrere il CAD anche oggi, si vede come spesso per disciplinare molte materie, dal domicilio digitale all'interoperabilità al cloud, al difensore civico, insomma moltissimi temi che riguardano la digitalizzazione sono affidati appunto a norme dell'Agenzia per l'Italia digitale. Norme che non sono meramente norme tecniche, attenzione perché anche la rubrica di questo articolo 71 regole tecniche che può trarre l'inganno. Ne parlavamo con un docente anziano di diritto amministrativo il quale mi chiedeva ma come queste norme tecniche sono dei meri standard tecnici o sono delle norme a tutti gli effetti, quindi norme anche di indirizzo? La risposta sta proprio dentro anche questo articolo perché parla di regole tecniche di indirizzo per l'attuazione del presente codice. Quindi si tratta a tutti gli effetti non solo di standard tecnici ma anche di regole assimilabili in tutto e per tutto ai regolamenti cooperativi ed infatti le ineguità agide hanno sostituito di fatto i decreti ministeriali, il PCM più che altro, che venivano attuati, approvati precedentemente in materia di digitalizzazione. Vi ho fatto un prospetto non esaustivo peraltro delle norme di riferimento della digitalizzazione a parte il BPR 445, il Tuda e il codice dell'amministrazione digitale, come vedete, le fonti fondamentali in materia di, qua ci limitiamo al documentale, quindi sistema di conservazione, protocollo informatico, formazione, trasmissione, copia, duplicazione, rivoluzione, validazione temporale, documenti informatici, nonché formazione e conservazione dei documenti informatici erano affidati a dei DPCM, quindi a delle fonti regolamentari che adesso sono sostituite dalle linee guida. Vedremo infatti che le linee guida sul documento informatico di cui poi parleremo più specificamente dopo, hanno l'effetto di abrogare questi DPCM, in particolare appunto i tre, tranne parte di quello sul protocollo, ma comunque hanno quindi la forza attiva di abrogare dei regolamenti del governo. Questo aspetto non è così pacifico come potrebbe sembrare perché, come vi dicevo all'inizio, si tratta di una fonte del tutto atipica in qualche modo, noi siamo abituati a ragionare in termini di legge fonte primare al regolamento fonte secondaria. Invece non bisogna più ragionare in questi termini perché le linee guida sono oggi fonte secondaria equiparabile certamente ai regolamenti, addirittura servono per deregolamentare una materia, per superare il carattere farroginoso dei regolamenti, sia nella produzione da parte del governo, quindi del ministro incaricato, delegato, sia per superare anche la difficoltà di adeguare un regolamento governativo alle contingenze, al mutamento continuo dell'oggetto della digitalizzazione. Quindi si è pensato in sostanza ad una fonte che destrutturasse sia l'ambito oggettivo che sia quello soggettivo. Quindi una fonte che fosse molto più flessibile, appunto la linea guida, anche quando sentiamo parlare, cioè siamo abituati a pensare alla linea guida come un testo esplicativo di norme più che come un testo che introduca norme. Ecco, in questo caso la forza della linea guida non è meramente esplicativa, anzi è precettiva, ma sia il linguaggio sia la modalità con cui vengono approvate le linee guida sono molto più flessibili di come poter essere un regolamento precedente. E poi la distrutturazione dell'ambito soggettivo è evidente nel fatto che viene assegnata all'agenzia militare digitale, quindi ripeta un norma non collocata nell'ambito della rappresentanza politica, il compito di introdurre, di modificare, di seguire passo passo l'evoluzione tecnologica e quindi di poter adeguare sempre di più il tema, il momento normativo col momento fattuale, quindi di dare all'evoluzione tecnologica, all'innovazione una risposta sempre sul pezzo. Il Consiglio di Stato chiarisce il contenuto dell'ineguida, lo fa non soltanto rispetto all'ineguida agente ma anche rispetto, soprattutto rispetto all'ineguida di ANAC, se ricordate in quegli stessi anni è stata rafforzata anche il potere normativo dell'autorità anticorruzione in materia di appalti e i discorsi che il Consiglio di Stato fa sia rispetto all'ineguida agente che quelle ANAC sono sostanzialmente analoghe. E il Consiglio di Stato che bene avrebbe potuto dire che queste linee guida non vanno bene perché appunto agente non fa parte del circuito della rappresentanza politica, perché le linee guida non sono tipizzate da nessuna parte in norme fondamentali, costituzionali o comunque di carattere primario diciamo, se non nel CAD come abbiamo visto nell'articolo 71, ma non in leggi generali dell'ordinamento, ma qui il discorso si farebbe più complesso, comunque il Consiglio di Stato non solo conferma la bontà della novità legislativa ma anzi la incoraggia e quindi parla di strumenti di regolazione flessibile in tema appunto soprattutto di digitalizzazione assai ben accette, anzi ben necessarie oltre che opportune, che hanno una valenza erga omnes, quindi evidentemente hanno un contenuto normativo nel momento in cui si dice che hanno valenza e in alcuni casi, che vi andremo a far poco, carattere di vincolatività, sono atti amministrativi generali, quindi come i regolamenti sostanzialmente hanno un carattere formalmente amministrativo ma contenutisticamente normativo e, dice il Consiglio di Stato, sono assimilabili agli atti di regolazione delle autorità amministrativi e risultano giustiziabili dinanzi al giudice amministrativo, quindi se si vuole impugnare una linea guida lo si può fare dinanzi al giudice amministrativo, ovviamente dimostrando una lesione di un interesse legittimo da parte delle linee guida. Qual è l'efficacia? Quindi c'è un'efficacia modulata, dice il Consiglio di Stato, si può trattare di regole tecniche che modificano l'ordinamento o innovano l'ordinamento, che hanno un carattere precettivo o possono avere un contenuto di indirizzo e in questo caso possono le amministrazioni discostarsi dalle linee guida ma soltanto motivando la ragione per cui ci si vuole discostare. Quindi è vero che l'efficacia è modulata, tuttavia le linee guida di indirizzo che hanno un'efficacia meno vincolante rispetto alle linee guida contenenti di regole tecniche comunque devono essere osservate e se non vengono osservate l'amministrazione deve motivare il perché vuole disattendere il contenuto delle linee guida. Di regola tuttavia le linee guida hanno un carattere misto, cioè contengono sia parti vincolanti sia parti non vincolanti. Voi direte come faccio a riconoscerle? Ci sono almeno due indici per riconoscere le linee guida tra vincolanti e non vincolanti. Il primo è che spesso nella premessa delle linee guida si chiariscono i punti, le parti che sono vincolanti e quelle che sono di mero indirizzo. Se questo non è fatto, ma ormai le linee guida tendenzialmente lo si fa sempre, se questo non è fatto si capisce le espressioni verbali. Quando si utilizza, è stata fatta proprio una nota da parte di Agile, di regolamento sull'interpretazione delle linee guida, quando si parla di, in termini di dovere, quindi si utilizza il verbo dovere, si tratta di linee guida vincolanti o di parti vincolanti linee guida, quando si parla di potere, allora siamo di fronte ad una linea guida non vincolante. All'interno delle linee guida vincolanti abbiamo diversi tipi di linee guida, quelle di cui parleremo più nel crudio d'oggi, cioè quelle sul documento informatico, hanno una finalità prevalentemente di semplificazione e riordino della normativa predicente. Cioè noi abbiamo in sostanza analizzato tutti i dpcm che erano stati adottati in materia di documento informatico e in un unico testo le abbiamo semplificate, le abbiamo ricondotte a conformità rispetto al CAD che ha modificato sempre negli anni che vi dicevo prima, la parte, la sezione dedicata proprio a documento informatico e pretendiamo di aver fatto un lavoro di raccolta delle norme in maniera, delle norme sul documento esaustiva. Ci sono poi altre linee guida che hanno invece una efficacia, che invece attuano diciamo una normativa primaria, hanno un carattere di innovatività maggiore, ad esempio quelle sull'accessibilità dei siti internet, ma anche tra le non vincolanti abbiamo delle differenze, a volte abbiamo delle linee guida che hanno un contenuto di raccomandazione all'EPA, ad esempio quelle sull'acquisizione degli usi di software, e a volte abbiamo dei vari operativi e qui la linea guida ritorna tendenzialmente quella che era prima della riforma del 2017, quando voi incontrate, questo lo chiarisco, linee guida precedenti al 2016-17 siamo in presenza di manuali operativi, non siamo in presenza di fonti innovative, solo dopo il 2017 se incontrate una linea guida, per linea guida vi dovete porre il problema se si tratta di una linea guida vincolante, di una guida di indirizzo e appunto tenendo ben presente che comunque si tratta di atti, di un contenuto normativo, formalmente amministrativo come dicevo prima, ma di contenuto normativo. Vi dicevo appunto che le nostre linee guida, quelle sul documento informatico, hanno una natura mista, come quasi tutte le linee guida di agid... si abbiamo perso un attimo il collegamento, aspettiamo che si ristabilizzi. vediamo un po' se è proprio disconnesso, quindi deve esserci stato un problema sulla sua linea di connessione, per cui aspettiamo, ecco, è rientrato, vediamo se riesce a ricollegare il collegamento. Sentite? Mi vedete e sentite adesso? Va bene, riprendo, scusate ma non credo sia colpa mia né dell'organizzazione ma della connessione. Allora, scusate ancora, stavo dicendo, spero abbiate sentito, che le nostre linee guida sono linee guida miste che hanno però una prevalente finalità caratteristica vincolante. Le parti non vincolanti sono specificate e riguardano soprattutto l'estensione di alcune norme ai soggetti privati o alcune norme in materia di segnatura di protocollo. Poi comunque magari entrerà meglio sul punto il collega. Mi sentite comunque? Si sente pianissimo? Io tolgo la camera, spero che si senta meglio. Allora, intanto mi avvio alla conclusione. Allora, il rispetto della legalità procedimentale è un punto fermo per il nostro lavoro. Cioè, visto che non siamo organi politici, non siamo il Parlamento nel Governo, siamo un'agenzia governativa, dobbiamo però rispettare tutta una serie di passaggi, tanto politici, tanto tecnici, perché le nostre linee guida siano approvate e siano condivise da più soggetti possibili. L'articolo 71 chiarisce quali sono i passaggi, bisogna sentire le amministrazioni competenti, sentire se del caso il garante privacy e avere il parere positivo della conferenza unificata. Sì, il video l'ho tolto proprio per consentire una maggiore, tanto non vi perdete niente, anzi, ci guadagnate. Quindi dicevo che bisogna condividere il testo con la conferenza unificata e là è il momento, diciamo, politico della condivisione del testo. Tuttavia, nell'approvare queste linee guida, noi abbiamo utilizzato molta prudenza, sia nelle consultazioni pubbliche che in quelle, diciamo, più in qualche modo anche politiche. Nella consultazione pubblica abbiamo avuto una grande partecipazione da parte, devo dire, più di singoli utenti che di associazioni, nella partecipazione al documento. vi invito anche per il futuro a partecipare alle consultazioni pubbliche sulle linee guida, perché noi in Agile ne teniamo conto, abbiamo modificato anche diversi passaggi delle linee guida, e quindi abbiamo certamente tenuto conto appunto dei contributi offerti dai cittadini in forma privata o in forma associata. abbiamo anche condiviso il testo con la Commissione europea su alcuni punti che magari riprenderanno i miei colleghi, abbiamo coinvolto il Garantia Pravis appunto con di ciò la conferenza unificata e evidentemente abbiamo coinvolto anche il Ministro competente, che è il Ministro per l'innozione tecnologica e la digitalizzazione oggi per la transizione digitale. Ci sono altre fonti di Agile, ora il tempo è poco, magari poi ci sarà occasione in un altro webinar di approfondire l'argomento, però voi spesso incontrate anche diverse altre fonti dell'agenzia. Le circolari, ad esempio in materia di cloud, abbiamo approvato qualche anno fa delle circolari che hanno un valore precettivo certamente importante in materia di cloud. Abbiamo anche di recenti assunto un potere regolamentare in materia di conservazione, ne parleranno i miei colleghi e sapete che il primo gennaio entrerà in vigore anche un regolamento che stabilisce i criteri di conservazione. per la conservazione dei documenti in favore delle pubbliche amministrazioni, da dove le pubbliche amministrazioni decidono di esternalizzare il servizio. Come si fa a capire l'efficacia delle varie norme? Devo dire che anche noi interpreti possiamo fare a volte fatica su questo, cioè quando dobbiamo approvare la linea guida o quando dobbiamo approvare il regolamento o quando deve circolare. La mia tesi, che è condivisa comunque in agenzia, è che quando il legislatore ci affida il compito di una determinata materia di adottare una linea guida, adottiamo quella. Quando ci dice di fare un regolamento, adottiamo il regolamento, in tutti gli altri casi si possono adottare circolari o applicativi o interpretativi. Per l'interprete suggerisco sempre di tenere conto che tutti questi testi, soprattutto i regolamenti e le linee guida, hanno efficacia normativa. Ripeto, l'ho detto sin dall'inizio, devono essere considerati come regolamenti governativi a tutti gli effetti. Concludo, è ovvio che queste tesi non sono state accettate da tutti, cioè il fatto che un'agenzia potesse adottare norme giuridiche a tutti gli effetti è stato contestato, è stato detto che si tratta di norme di fast law e lo è stato detto in termini critici. C'è un diritto veloce che mal si coniuga con la necessità di condividere il più possibile testi normativi perché siano, ripeto, i più condivisi possibili. Io sono del tutto in linea invece con la riforma legislativa, ritengo che, anzi, il fast law in materia di digitalizzazione sia non un'opportunità ma, ripeto, una necessità, visto come cambia rapidissimamente l'evoluzione tecnologica e quindi norme di fast law, norme che si approvano rapidamente, sono importantissime ed è importantissimo anche che le adotti una struttura che non è direttamente, o meglio continuamente collegata a un soggetto politico. Noi certamente siamo strumentalmente collegati col ministro dell'azione digitale ma abbiamo la nostra autonomia e se bisogna approvare norme tecniche sulla digitalizzazione è bene che non ci siano contaminazioni politiche. L'ambito politico, detti la strategia, le norme primarie, è che le norme tecniche attuative vengono affidate appunto all'organo tecnico. Ecco, ho finito e mi scuso per il disagio di qualche minuto, spero si sia inteso. Grazie, grazie Pietro, grazie per l'approfondimento e per la contestualizzazione delle linee guida nel sistema delle fonti. Adesso chiedo a Patrizia Gentili di attivare la sua webcam e di intervenire per l'approfondimento sulle novità introdotte da queste linee guida. Grazie. Patrizia, ancora non ti sentiamo? Non ancora? Non ancora? No, ancora non si sente? No, ancora non si sente? No, ancora non si sente? Patrizia, ti chiedo di provare a uscire e rientrare. Scusate, scusate per questo piccolo inconveniente, ovviamente nelle prove era andato tutto bene, però adesso non appena si ricollega l'audio speriamo venga ripristinato correttamente. Però credo che riguardi l'estensione alla soggetti privati delle norme, sia del CAD che delle linee guida. Ne parleranno anche i colleghi dopo, mi limito a dire per quanto mi riguarda che bisogna leggere con attenzione sia il CAD che sia in guida perché noi specificiamo con abbastanza chiarezza cosa si applica alla pubblica amministrazione e cosa ai privati. Quando voi leggete la pubblica amministrazione è tenuta A, si applica solo alla pubblica amministrazione. Quando invece non si specifica questo, si applica anche ai privati. Questo poi lo specificeranno meglio anche i colleghi, poi se rimarranno dei dubbi ne parleremo alla fine. Adesso mi sentite? Vediamo, si è ricollegato. Ok, perfetto, scusate, non capisco che è successo perché sembrava il collegamento funzionare. Allora, buongiorno a tutti, scusate ancora per questo piccolo disagio. Io sono Patrizia Gentili, sono la responsabile del servizio documentale che ha avuto l'onere e l'onore di coordinare i lavori di stesura sia delle nuove linee guida sia del regolamento dei servizi di conservazione. Cercherò di fare una panoramica per farvi capire come la genesi delle linee guida e le novità principali perché ci sono alcuni dei temi che abbiamo trattato che sono effettivamente piuttosto dirompenti come novità introdotte. E poi parleremo anche delle ultime modifiche che sono state introdotte a maggio scorso. Allora, vediamo quindi cosa è successo dopo che, come stava dicendo prima il collega Falletta, abbiamo inviato il testo delle linee guida all'Europa. Voi sapete che ai sensi della direttiva del 2015, 1535 direttiva europea, ogni paese membro è tenuto a inviare ogni progetto di regola tecnica all'unità centrale di notifica, che provvede quindi ad inoltrarlo alla Commissione europea ai fini della sua condivisione e verifica che la regola tecnica non sia in contrasto con quanto previsto da tutto l'apparato regolamentatorio europeo. In Italia, quest'unità centrale di notifiche è rappresentata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo parlato prima velocemente del contesto normativo italiano di partenza. Dal punto di vista invece europeo, il contesto normativo di partenza è dato, o comunque di contesto, è dato essenzialmente dal regolamento EIDAS, cioè l'Elettronica Identification, Authentication and Signature, e il regolamento che riguarda la protezione dei dati, il famigerato GDPR. Che cosa quindi abbiamo fatto? Parlavamo prima della consultazione pubblica delle nuove linee guida. Secondo il CAD, appunto, secondo l'articolo 71, ogni testo di linea guida che viene emanato da Agide deve preventivamente essere sottoposto ad una consultazione pubblica. Che cosa significa questo? Che per un periodo di 30 giorni questi testi sono a disposizione di chiunque. Nella fattispecie sono state pubblicate, abbiamo delle piattaforme ad hoc che servono per questo motivo, Docs Italia, dove chiunque può inserire dei commenti, dei suggerimenti, delle proposte di modifiche. Nella fattispecie, le linee guida sono state messe in consultazione dal 17 ottobre 2019 fino al 16 novembre 2019. Perché abbiamo fatto queste linee guida? Qual era lo scopo? Come abbiamo visto, ci sono varie motivazioni che sottintendono alla stesura delle linee guida. Nel caso nostro, quello che ci interessava era aggiornarle, aggiornare le regole già preesistenti e emanate attraverso i DPCM che abbiamo citato prima, ma soprattutto dare per la prima volta una cornice unica di regolamentazione, proprio per dare un punto unico dove trovare tutto quello che riguarda la gestione di un documento informatico e soprattutto trovare la coerenza e il collegamento con quanto previsto dalla disciplina dei beni culturali. Quindi abbiamo utilizzato questo nuovo approccio, è stata una delle prime esperienze di applicazione dell'articolo 71 e in cui abbiamo cercato la più ampia collaborazione, la più ampia condivisione, quindi un gruppo di lavoro unico che si sia occupato di un argomento che poi è il cuore dell'attività di chiunque, sia privato che pubblico, ossia il documento. E quindi di conseguenza si toccano vari aspetti, perché ovviamente quando noi parliamo di documento parliamo anche di firma, parliamo anche di posta elettronica certificata, parliamo di domicilio digitale, ovviamente abbiamo dovuto circoscrivere l'oggetto della nostra regolamentazione perché altrimenti sarebbe diventato non la linea guida sul documento informatico, ma la tre cani sul documento informatico. Quindi abbiamo istituito un gruppo di lavoro, abbiamo redatto una prima versione, abbiamo cominciato una condivisione con stakeholder di riferimento, quindi associazioni di categoria, piuttosto che con le amministrazioni archivistiche, per esempio con la direzione generale archivi con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, cominciando quindi a fare delle prime revisioni. Dopodiché siamo arrivati alla consultazione pubblica. Ovviamente il lavoro non è finito qua, perché come abbiamo detto siamo passati dal garante della privacy, quindi parere del garante della privacy, anche lì altre richieste di modifiche e di perfezionamento del testo per quanto riguarda tutta la parte della sicurezza, ci siamo confrontati con la conferenza unificata a Stato-Regioni per far capire quale era l'impatto anche sulla parte, diciamo, sulle amministrazioni locali e abbiamo ottenuto il loro via libera. Ma a un certo punto è arrivato invece la risposta dalla Commissione europea, che ha emesso un parere circostanziato. E poi parleremo di che cosa significa. Il parere circostanziato ha rigettato intanto sulla parte della conservazione e la localizzazione dei dati sul territorio nazionale, che prima invece era prescritto dai precedenti decreti. Ed è stato rigettato anche il processo di accreditamento dei conservatori, che è stato considerato una infrastruttura inutile e ostativa. A che cosa? Alla libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea, così come previsto dal Regolamento 1807 del 2018. e ha invitato la Commissione a modificare la norma primaria che prevedeva l'accreditamento, ossia il CAD. Poi di questo se ne parlerà meglio quando ci sarà l'intervento sul regolamento. Allora, per redigere le linee guida abbiamo cercato un approccio di tipo olistico, diciamo noi, ossia di mettere in evidenza tutte le interdipendenze funzionali tra i vari pezzi del ciclo di vita del documento. Abbiamo adottato una tecnica redazionale descrittiva, in modo che fosse sempre più semplice il testo, anche se ovviamente le linee guida hanno un valore cogente, come abbiamo visto prima. E sono strutturate in che modo? Con un corpo centrale, che contiene proprio la base normativa, e degli allegati, che sono, diciamo, le vere prescrizioni tecniche e sono disposizioni funzionalmente mobili, perché ovviamente sono connesse all'evoluzione tecnologica e quindi possono variare nel tempo, nel numero e nel contenuto. Quindi abbiamo, questa è la struttura, velocemente, del documento, questa è la parte centrale, diciamo, come vedete, molto semplice, molto sintetica, e poi abbiamo i sei allegati, il glossario, il formato di file, certificazioni di processo, standard, i metadati e le comunicazioni tra le organizzative di documenti amministrativi protocollati. Quindi, per intenderci, questo è lo schema con cui siamo intervenuti. Quindi vedete i DPCM sul protocollo, che sarà dal 1 gennaio parzialmente abrogato, parzialmente perché alcune delle disposizioni che sono contenute nel DPCM del protocollo discendono direttamente dal testo unico della documentazione amministrativa, il 445 del 2000, su cui Agid non ha la delega ad intervenire. Verrà abrogato il DPCM sulle regole tecniche della conservazione, quello sul formazione, trasmissione, eccetera, eccetera, del documento informatico. E poi vediamo agli allegati. Il glossario è stato completamente rivisto, l'allegato sui formati è stato completamente rivisto, l'allegato 3, che è quello sulla certificazione di processo di cui parlerà poi il mio collega con un focus particolare, non esisteva prima. Quello sugli standard è stato completamente rivisto, è stato eliminato il precedente allegato sulle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione, ossia lo standard unisintro, perché essendo uno standard abbiamo ritenuto che non fosse assolutamente il caso di allegarlo alle linee guida. Quello sui metadati è stato completamente rivisto. L'allegato 6 è un allegato completamente nuovo che va ad abrogare la circolare 60 che precedentemente regolamentava appunto il formato delle informazioni che si scambiano tra amministrazioni tramite il protocollo. Velocemente il glossario è diventato una sorta di dizionario enciclopedico dei termini relativi alla tematica, questa ambizione, ed è chiaramente un po' la guida per poter leggere tutta la documentazione, tutto il corpus che abbiamo creato. Allegato 2, formato dei documenti, questa è chiaramente la parte più tecnologica, se vogliamo, quindi necessitava di una revisione assolutamente massiccia, perché noi siamo circondati da tanti ormai documenti digitali che nel tempo hanno assunto varie forme, vari significati, sono stati introdotti nell'uso comune anche per esempio degli interrogatori, delle intercettazioni telefoniche, piuttosto che nei processi, nelle varie forme di processi telematici. Quindi abbiamo creato un allegato in cui c'è stata fatta una tassonomia di base tra formati generici, utili a tutti, e formati che invece sono più specifici. naturalmente la tassonomia è stata fatta in base a che cosa? All'apertura o limitazioni sulle specifiche, se sono basati su standard de jure o de facto, se sono formati aperti o chiusi, se sono proprietari o non proprietari. La cosa che è importante è che è stato stressato il concetto del principio dell'interoperabilità tra i formati, in modo da consigliare quindi quelli che sono più possibile aperti e che quindi possano mitigare il rischio dell'obsolescenza tecnologica. Ce ne sono alcuni che chiaramente sono presenti, anche se non rispondono a queste caratteristiche, perché sono dei formati già ampiamente utilizzati dalle amministrazioni e quindi di conseguenza non possono proprio essere ignorati. Qui vedete una carrellata a dei principali famiglie di file che sono stati elencati nel documento, con le tabelle, questo è l'esempio delle tabelle per cui su ciascun formato di file vengono poi esplose tutte le caratteristiche in modo sintetico e proprio per fare da guida nell'adozione di questi formati. Qui vedete anche qua degli altri esempi. Altro concetto importante è la valutazione dell'interoperabilità, perché praticamente deve essere effettuata continuamente valutando cosa? Partendo da un censimento dei formati che sono in uso e vedendo quali sono i dettagli tecnici che li caratterizzano, ipotizzando quindi tutti i possibili processi di riversamento. Quindi abbiamo utilizzato il concetto dell'indice di interoperabilità, cioè un valore numerico che identifica immediatamente quel formato che sia più interoperabile rispetto a quello che è meno interoperabile. Quindi perché questa valutazione va fatta continuamente proprio per cercare di anticipare quelli che possono essere i problemi di leggibilità nel tempo dei documenti. Ad esempio, qui vediamo appunto quali sono i punteggi di questo indice di interoperabilità che vengono associati a documenti che sono caratterizzati da uno standard de facto piuttosto che al fatto che siano aperti o che siano chiusi. Passiamo all'altro allegato importante, ripeto, il 3 ne parlerà poi il mio collega, altra grossa novità che sono quelli dei metadati. È stata fatta una revisione rivoluzionaria nel senso che sono state estese i set di metadati che riguardano il documento informatico, il documento amministrativo informatico e le aggregazioni. Abbiamo eliminato il concetto di metadati minimi per parlare semplicemente di metadati obbligatori e metadati facoltativi. Questo che cosa significa? Che per contestualizzare al meglio il documento all'interno di un sistema di gestione documentale e poi un domani in un sistema di conservazione va specificato il massimo numero possibile di attributi che servono proprio a gestirlo nella maniera migliore. Quindi il principio a cui abbiamo cercato di rispondere è proprio quello di trasparenza di conoscenza approfondita del contesto documentale e quindi per ogni metadato devono essere indicati la definizione il nome i sottocampi se è un metadato nuovo oppure no se è obbligatorio oppure no e in alcuni casi abbiamo dei metadati complessi cioè che si suddividono in ulteriori sottocampi abbiamo anche mantenuto distinto il documento informatico dal documento amministrativo informatico è vero che diciamo sono molto simili nell'impostazione cioè la differenza fondamentale sta sulla obbligatorietà o meno dei metadati però abbiamo cercato in ogni caso di mantenere i distinti per facilità di lettura e quindi ci sono chiaramente delle sostanziali analogie strutturali però appunto è importante che anche visivamente rimangano separati veniamo all'ultimo allegato di cui vi volevo parlare che è molto importante che è quello della comunicazione tra aree organizzative omogenee di documenti amministrativi protocollati quindi questo si applica alle pubbliche amministrazioni è importante focalizzarsi sul messaggio di protocollo che è diciamo l'elemento proprio atomico che serve a dare vita allo scambio di documenti tra le aree organizzative omogenee ed è una struttura logica che deve contenere naturalmente il documento principale i documenti eventualmente allegati ma soprattutto deve contenere la segnatura del messaggio protocollato e quindi è qua che si concentra la differenza cioè la segnatura di protocollo deve contenere queste sezioni che vedete evidenziate qui dove diciamo abbiamo questa novità nel campo segnatura che diciamo presenta la la firma della segnatura di protocollo attraverso un sigillo conformemente appunto al profilo XADES BESLAN-B in questo modo diciamo si rende la segnatura si rende molto molto più diciamo sicura perché identifica chiaramente l'amministrazione che sta emettendo il documento e nello stesso tempo viene fortificato consolidato il meccanismo di accoppiamento tra la segnatura il documento principale e soprattutto gli allegati qui vedete appunto le modifiche che sono state apportate agli schemi XML del messaggio di protocollo sono state apportate 66 variazioni che sono diciamo semplicemente implementabili qui ci sono appunto delle tabelle in cui vengono riassunte tutti i cambiamenti che sono stati fatti rispetto al passato e poi è stato introdotto e stressato il concetto del trasporto tra messaggi di protocollo automatizzati cioè machine to machine quindi temporaneamente consentiamo ancora il trasporto attraverso posta elettronica certificata ma diciamo che il consiglio e la spinta è verso appunto un colloquio machine to machine ora a maggio vado alla chiusura velocemente semplicemente per dirvi che sono state pubblicate delle nuove versioni dell'allegato 5 e dell'allegato 6 e quindi è un testo che diciamo ha corretto alcune piccole imprecisioni sulla parte centrale delle linee guida contestualmente a queste modifiche sono state è stata prorogata la data di entrata in vigore al primo gennaio 2022 quindi ormai mancano 15 giorni di fatto e poi saremo pronti con la nuova con la nuova il nuovo corpus normativo le modifiche qui sono riassunte in questi schemi ma comunque le potete trovare a questo link dove viene specificato meglio che cosa abbiamo modificato rispetto alla versione di maggio vabbè io con questo ho concluso e spero diciamo di essere stata abbastanza veloce abbastanza chiara grazie 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 per l'intervento chiarissimo chiedo adesso a Gaetano Bruno di di attivare la sua webcam per il suo intervento di approfondimento per la certificazione del processo mi vedete mi sentite bene vediamo e sentiamo perfettamente ok beh con me parleremo di certificazioni di processo un attimo vediamo ok sì la certificazione di processo è una novità adesso non è più attivo il video però qualcosa deve aver fatto esatto la certificazione di processo è una novità che è stata appunto introdotta con l'allegato numero 3 alle linee guida del documento informatico e la novità però più importante sta proprio nell'uso di questo termine che il legislatore ha voluto utilizzare certificazione di processo e oggettivamente la novità importante sta nel fatto proprio che si è voluto dare una continuità con il codice civile anche e con alcuni importanti articoli del codice dell'amministrazione digitale che noi abbiamo preso riferimento per ragionare sull'allegato numero 3 il primo pilastro sul quale abbiamo dal quale siamo partiti è ovviamente quello dell'articolo 20 del CAD perché chiarissimamente il legislatore qui dice che il documento informatico perché noi dobbiamo avere a mente chiaramente qual è la corretta formazione del documento informatico perché rappresenta l'output del processo di scansione massiva dei documenti il documento informatico appunto dice il legislatore ha la medesima efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile cioè fa piena prova fino a quere era di falso ma questo quando? quando evidentemente è sottoscritto da questo punto di vista è una cosa piuttosto ovvia verrebbe da dire qualsiasi documento acquisisce una sua efficacia laddove è sottoscritto sia questo valido per il documento analogico quanto per il documento informatico però è chiaro che il documento informatico deve contenere una firma diversa la firma elettronica che ben conosciamo tutti noi la firma digitale la firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o anche ovviamente firma speed ma questo perché questa insistenza sul fatto che debba essere corredata da sottoscrizione elettronica a parte vabbè che ce lo dice EIDAS il regolamento europeo ma perché solo così possiamo poter assicurare al documento informatico sicurezza integrità e modificabilità del documento e in maniera manifesta in equivoca anche possiamo essere certi sulla riconducibilità dell'autore questo è estremamente importante ed è importante che capirla questa cosa diversamente infatti aggiunge ancora il legislatore sempre al medesimo articolo 20 in tutti gli altri casi il documento informatico il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio ma questo è pacifico perché un documento sottoscritto con firma debole una e-mail una firma addirittura immagine è evidente che non ha lo stesso valore la stessa importanza la stessa sicurezza la stessa integrità non può rappresentare appunto la stessa sicurezza di una firma digitale perché sappiamo che sarebbe molto più difficile correttamente ad esempio poter dire che il documento informatico da me sottoscritto con firma digitale non è quello mio non è stato sottoscritto da me devo evidentemente avere precedentemente denunciato il furto delle mie credenziali del mio token di firma per poter dire che quel documento informatico non è stato effettivamente firmato da me mentre invece nel caso del documento sottoscritto con firma debole il suo disconoscimento è senz'altro molto più facile l'itere gli avvocati lo sanno bene è senz'altro molto più appunto rapido proprio perché è liberamente valutabile in giudizio ha il suo valore probatorio il documento informatico sottoscritto con firma semplice ma appunto è estremamente diverso quindi questo bisogna tenere a mente che la corretta la formazione l'efficacia probatoria e legale del documento informatico l'abbiamo evidentemente solo attraverso la sua sottoscrizione e sottoscrizione elettronica un altro aspetto importante dal quale qui succede sempre un altro aspetto importante dal quale noi siamo partiti è la conformità al documento sì perché ad un certo punto noi potremmo domandarci oggettivamente d'accordo che il documento debba essere sottoscritto con firma elettronica ma poi chi ci dice che la sua conformità all'originale sia rispettata perché poi c'è il problema delle copie e dei duplicati sebbene noi non dovremmo poter trattare di copie e duplicati ma unicamente dovremmo poter lavorare solo su documenti informatici in originale nativamente formati in modo informatico comunque laddove abbiamo a che fare con copie informatiche e dice ancora l'articolo 22 comma 2 del cad del legislatore dice che queste copie su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la loro la media significacia per l'originale purché la conformità sia attestata ad un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato e questo è pacifico anche nel codice civile nel senso che questo tipo di attestazione di terzi età per così dire è presente da tempo nel nostro ordinamento abbiamo convissuto con il fatto che debba essere un terzo un notaio pubblico ufficiale a detestare la conformità di qualcosa e nello specifico anche delle copie informatiche di documenti analogici lo stesso può avvenire deve poter avvenire anche nel caso di privati cioè qualora non intervenisse direttamente il notario o il pubblico ufficiale la copia la conformità può essere evidentemente emessa fatta ma ha un'efficacia diversa non diciamo privilegiata questa attestazione può essere espressamente disconosciuta questo è noto è pacifico anche anche questo nel nostro ordinamento quindi noi questi due principi il fatto che il documento informatico debba essere sottoscritto in formato elettronico evidentemente e che poi la conformità delle copie dei duplicati debba essere attestata da un notario pubblico ufficiale o da un privato ma con un'efficacia diversa ecco questi due principi sono stati i nostri due principi guida per la redazione del documento allegato numero 3 e qui sostanzialmente il legislatore come se ci avesse detto concentrateci parlando di certificazioni di processo unicamente proprio sulla su ciò che sta prima dell'attività del processo di scansione massiva dei documenti analogici perché lì come dire ciò che abbiamo pensato noi con l'articolo 20 e successivi il documento poi che dovrà essere prodotto che il frutto della scansione del documento analogico deve essere conforme all'articolo 20 quindi deve essere sottoscritto e la sua attestazione deve essere appunto attestata da un notaio pubblico ufficiale parla l'articolo 22 come uno bis appunto di due strumenti uno è quello noto da tempo dai notai il raffronto dei documenti allora quando noi facciamo una scansione del documento analogico e otteniamo una copia informatica la prima cosa che facciamo che è questo tutti è verificare che il contenuto e la forma siano risultino identici al documento analogico da cui è tratto il documento informatico quindi l'affronto è evidente che debba essere fatto oppure attraverso dice il legislatore certificazioni di processo nel caso in cui siano numerosissimi i documenti analogici sottoposti a scansione massiva dei documenti perché in quel caso non possiamo ricorrere uno a uno al raffronto per verificare appunto questa conformità di forma e contenuto e poi ancora aggiunge il legislatore nei casi in cui per quanto riguarda la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia quindi parla di tecniche tecniche che evidentemente su questo noi anche abbiamo ragionato l'articolo 23 ter cad documenti amministrativi informatici chiarisce anche un altro aspetto tutto quanto ci siamo detti fin qui per il documento informatico vale anche per il documento amministrativo informatico perché evidentemente un tecnico informatico direbbe molto semplicemente che non è che ci sia una distinzione fondamentale tra documento informatico e documento amministrativo informatico quello amministrativo informatico è quello come è noto che entra nel procedimento amministrativo e quello della pubblica amministrazione quello protocollato e il legislatore infatti al 23 ter chiarisce che c'è una piena uguaglianza da questo punto di vista anche per le cocchi su supporto informatico infatti dici di documenti informati della pubblica amministrazione in origine su supporto analogico anche qui dobbiamo individuare processi e strumenti che assicurino questa conformità di contenuto al documento analogico da cui è tratto e ancora una volta ripete il legislatore attraverso appunto il raffronto oppure attraverso la certificazione di processo dove sono adottate delle tecniche e poi sempre all'articolo 23 il legislatore aggiunge anche che hanno sì ovviamente queste copie il medesimo valore giuridico se la loro conformità è assicurata dal funzionario a ciò delegato questa è la differenza che esiste con il documento amministrativo informatico per le pubbliche amministrazioni quindi ovviamente non si ricorre al notario ma al funzionario a ciò delegato e mediante e questo è importante pure che venga aggiunto quindi c'è proprio un riprendere proprio anche il contenuto dell'articolo 20 mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma ovviamente elettronica qualificata che consente comunque nel rispetto delle linee guida quindi attestazione assicurata da un funzionario a ciò delegato per i documenti amministrativi informatici e rispetto delle linee guida per ciò che attiene la sottoscrizione elettronica del documento informatico e in tal caso aggiunge ancora il legislatore l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della coppia su un supporto informatico così facendo correttamente noi avremo un output della nostra attività di scansione massiva del documento correttamente formato e pronto dovremmo dire si potrebbe dire per la conservazione dopo attenta metatazione fatta dal nostro gestionale del produttore appunto che deve poter provvedere all'attività di metatatazione e quindi noi abbiamo diciamo tradotto quelle tecniche di cui parlava il legislatore per ciò che attiene alla certificazione di processo le abbiamo tradotte evidentemente in termini di efficienza gestionale dell'organizzazione e dirigenza di comportamento dei soggetti preposti alla certificazione di processo perché il legislatore come se ci avesse detto bisogna tenere attenzione massima attenzione proprio su ciò che succede prima della realizzazione del documento informatico e quindi del processo che sta a monte e in questo caso poi abbiamo anche seguito un altro concetto quello proprio della certificazione cioè la certificazione si sa che da sempre è qualcosa che un terzo può indipendente può effettivamente erogare può rilasciare e riguarda appunto un prodotto un servizio si parla di certificazione in conformità a dei requisiti specificati quindi quali sono questi requisiti specificati oggettivamente noi sappiamo molto bene che chi provvede alla scansione massiva dei documenti deve poter fare un progetto un progetto che parte dall'attività più blanda per così dire che è quella della sanificazione delle spillature dei documenti analogici ma c'è un progetto nel senso che occorre poter chiarire quale debba essere la corretta catalogazione fascicolazione dei documenti che poi verranno prodotti appunto in formato informatico bisogna poter capire quale debba essere la qualità da dare all'immagine documento settare i software di scansione massiva dei documenti scegliere il DPI più corretto e poi per esempio capire se è il caso di preferire che nel documento informatico frutto appunto della scansione accompagnano correntemente i colori colori ci fossero dei timbri color rosso quindi questo tipo di lavoro di assessment e di progettualità è certamente da fare le aziende che sono che provengono a questo tipo di lavoro di scansione massiva dei documenti lo sanno bene lo sanno bene e per assicurare che tutte le fasi di prototipazione di controllo e di verifica siano fatte abbiamo chiesto sostanzialmente l'adesione ai certificati di gestione ISO 9001 sui sistemi di qualità e la certificazione 27001 sui sistemi sulla gestione delle informazioni perché ovviamente quelle noi gestiamo fondamentalmente nell'attività di scansione un aspetto veramente interessante che abbiamo introdotto nel nostro allegato riteniamo che sia proprio anche quello della validità e riconducibilità della copia perché ho correttamente una volta fatta la scansione del documento analogico e prodotto un documento informatico magari pronto punto firmato sottoscritto pronto per la sua conservazione a distanza di tempo ci si potrebbe domandare se non siano intervenute delle modifiche qualcuno anche in maniera fraudolenta non abbia modificato il documento così composto a quel punto ma ci viene incontro l'impronta di hash cioè quell'impronta digitale che ci dice per ciascun documento informatico se questi abbia subito delle modifiche delle alterazioni sappiamo infatti che è un'impronta che verrebbe modificata al modificarsi anche di una virgola sul documento informatico e quindi l'attestazione di conformità che dovrà produrre il notaio pubblico ufficiale o anche un privato con un valore probatore differente come abbiamo capito deve poter anche essere seguita da un elenco sostanzialmente perché questo deve poter fare il software di scansione massiva da un elenco di codici di hash di valori appunto di impronte digitali cosicché poi ricalcolando l'impronta di hash a distanza di tempo se io ne faccio la verifica con l'impronta digitale che è stata calcolata all'inizio cioè nel momento in cui effettivamente il documento analogico è stato sottoposto a scansione per produrre appunto un documento informatico questa impronta sia risultata una medesima identica se così è evidentemente il documento informatico non ha subito alcun tipo di alterazione e questo abbiamo fatto ricorso all'impronta di hash proprio perché correttamente l'informatica ci viene in conto in questo senso l'attestazione rilasciata dal notario pubblico ufficiale ma altro non è che un verbale sostanzialmente anche perché voi dovete ritenere tenere conto che correttamente il notario o pubblico ufficiale comunque deve poter fare un controllo visivo a campione della bontà delle scansioni prodotte e quindi verbalizza sostanzialmente ad esempio il numero di lotto che è stato sottoposto a scansione verbalizza i requisiti tecnici o i vincoli di progetto di scansione massiva quindi anche per esempio fa riferimento ai manuali o alle procedure del sistema adottate dall'azienda che è certificata nel 2001 e 27001 può fare riferimento al contratto tra fornitore e committente verbalizza il luogo e la data orario inizio della scansione quindi è un verbale che poi corre dato come vi dicevo appunto dall'elenco delle impronte che sono state calcolate dal software di scansione questo è l'unica vera sostanziale modifica che i software di scansione poi dovrebbero poter contenere al loro interno e quindi viene prodotto un'attestazione propriamente attestazione di conformità per quanto riguarda il notaio pubblico ufficiale con quel valore privilegiato che conosciamo dal codice civile oppure un rapporto di verificazione da parte del soggetto privato con un valore probatorio semplice ma correttamente abbiamo voluto mantenere questa distinzione a parte che il codice civile ce lo impone sostanzialmente ma perché questo nella realtà così avviene cioè non è corretto anche che poi il valore da dare all'attestazione dipende anche dal progetto e dall'analisi che è stata fatta e quindi dal documento anche analogico che abbiamo dinanzi dal suo valore e dall'importanza per così dire da parte nostra di avere un'attestazione con un valore probatorio maggiore o semplice che noi stessi per primi produttori dovremo poter dare quindi sostanzialmente abbiamo introdotto questi due aspetti quello l'ambito oggettivo evidentemente che quello che è dato dalla testazione delle certificazioni nel 2001 il 27001 perché così facendo abbiamo congelato per così dire rassicurato poi chi deve fare questa attestazione che il processo è stato seguito secondo è stato svolto secondo delle regole precise e poi un ambito soggettivo proprio appunto quello di cui parlavo prima perché il controllo comunque visivo che viene fatto comunque dall'azienda che provvede alla scansione deve poter essere fatto anche dal notaio pubblico ufficiale ma perché molto semplicemente il documento frutto della scansione deve essere leggibile d'occhio umano non dalla macchina e questo tipo di controllo appunto viene fatto a campione come stavo dicendo verificare la leggibilità l'integrità e la completezza del processo di scansione assicurano sostanzialmente che il documento è così prodotto è identico per forma e contenuto al documento analogico da cui è tratto e l'attestazione di conformità a quel punto può esercitare e esplicitare i suoi effetti e così facendo noi di fatto abbiamo consentito affinché la certificazione di processo come voleva il legislatore venisse appunto messa in piedi per tutte le attività di scansione che riguardano una moltiplicità di documenti con questo ho terminato e do la parola perché credo che sia terminato anche il tempo per me al regolamento che riguarda proprio i conservatori qualificati che hanno adesso a disposizione sostanzialmente anche l'allegato 3 conoscendo che evidentemente esiste il documento correttamente formato e aziende che hanno provveduto alla scansione in maniera corretta grazie 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 Gaetano anche per l'introduzione all'intervento successivo quindi a questo punto recuperiamo un po' di tempo e chiedo a Luigi di intervenire grazie buongiorno a tutti mi sentite? sentite? sì correttamente ok allora oggi diciamo io proverò a spiegarvi quali diciamo quali sono stati motivi che hanno portato all'introduzione del regolamento parleremo del regolamento di tutto l'insieme di attività che hanno comunque implicitamente coinvolto Agile e tutta una serie di altri soggetti come è stato più volte detto si è parlato sempre di processo di condivisione di processo di adeguamento normativo di processo di adeguamento termico tecnologico di diciamo evoluzione degli stati in cui ci si trova evoluzione del contesto il regolamento nasce diciamo l'agenzia ad un certo punto è dovuta intervenire su dei documenti che diciamo su una normativa che comunque riguardava vari aspetti non solo quelli della conservazione quindi come hanno già anticipato i miei colleghi aspetti legati alla gestione documentale al protocollo e tutta un'altra serie di aspetti che comunque ormai rimandavano ai vecchi di PCM e quindi obsoleti diciamo perlomeno dal punto di vista del contesto in cui erano stati pensati inoltre anche il nuovo contesto previsto sia dal piano triennale che previsto in generale per quanto riguarda gli aspetti anche dei servizi che le pubbliche amministrazioni devono offrire al cittadino quindi gli aspetti anche legati al cloud alla sicurezza alla privacy tutti una serie di aspetti diciamo sui quali si sta spingendo quindi hanno portato diciamo come è stato già anticipato alla necessità di riformulare il contesto normativo ed uniformarlo o uniformarlo in modo da avere un qualcosa di organico che potesse essere potesse essere comunque interpretato ovviamente cosa è successo ad un certo punto questo gruppo di esperti ha diciamo predisposto un documento come è stato le cosiddette linee guida come è stato già detto le linee guida hanno avuto un processo abbastanza diciamo complesso lungo e laborioso per l'entrata in vigore nel frattempo dal punto di vista della conservazione in Italia esistevano già diciamo anche in funzione del diciamo del vecchio impianto esisteva già una situazione di fatto quindi una situazione di fatto e delle norme che comunque in qualche modo diciamo tendevano a tutelare il patrimonio documentale della pubblica amministrazione come è stato già anticipato i documenti della pubblica amministrazione per lo Stato italiano sono beni culturali e quindi non è possibile diciamo in generale non è possibile disfarselo se non seguendo alcune esposite procedure torniamo facciamo un passo indietro quindi come queste linee guida hanno richiesto comunque nella rinnovazione un parere diciamo è stato richiesto l'inviare alla commissione europea quindi sono state inviate la commissione europea la commissione europea ha fatto una serie di osservazioni ci sono stati degli scambi di comunicazione tra Agile e la commissione europea fino a che ad un certo punto come è stato già detto è nato questo famoso perere circostanziato che ha portato sostanzialmente alla alla delocalizzazione cioè all'obbligo di localizzazione in Italia diciamo dei documenti ha portato inoltre anche a quello che si diceva che era già previsto dal vecchio impianto quindi al venir meno del progetto di conservatori accreditati e ha imposto anche modifiche al codice dell'amministrazione digitale tutto ciò poi è stato comunque riportato diciamo il legislatore intervenuto con un decreto questo decreto cosa ha fatto è stato di notevole impatto per quanto riguarda gli aspetti legati alla conservazione infatti diciamo il documento a cui si tendeva diciamo era stato pensato un unico documento che contenesse anche gli aspetti legati alla conservazione quindi le linee guida il primo il la prima conseguenza è stata quella di far sì che fossero predisposti non solo le linee guida ma anche era doveva essere previsto un regolamento al quale i soggetti che dovevano diciamo effettuare conservazione avrebbero dovuto uniformarsi ovviamente le linee guida già in qualche modo erano state pensate per recepire quello che era già previsto nella vecchia normativa quindi i famosi requisiti di qualità sicurezza e organizzazione che i soggetti che vogliono diciamo offrire servizi di conservazione devono possedere il cambio di passo a cui si è arrivati è stato quello di passare dal discorso dell'accreditamento al diciamo a una visione diversa quindi non si parla più di accreditamento e quindi di soggetti che possedono dei requisiti ma il possesso dei requisiti è di criterio di fornitura ma del servizio quindi ci si sposta cambia il punto di vista quindi si pone il diciamo non è l'accreditamento che fa la differenza ma il possesso dei requisiti ovviamente cosa è successo questo impianto normativo diciamo è caduto come un fulmine al Celsere cioè ci si è dovuti adeguare causa rischio di una procedura di infrazione e quindi in qualche modo diciamo il decreto ha previsto anche un ha previsto anche un periodo di transizione in cui comunque restavano validi i requisiti già diciamo la normativa già in essere ovviamente come abbiamo già detto l'impatto principale è questo cioè non esistono più i conservatori accreditati non esisteranno più dal primo di gennaio momento dell'entrata in vigore del regolamento il conservatore accreditato ma non è il concetto di conservatore accreditato che diciamo è quello rilevante è il concetto legato al fatto che comunque questi soggetti seguivano diciamo dovevano seguire dovevano essere valutati attraverso una procedura specifica che prevedeva la predisposizione di un istruttore all'invio di documenti la verifica di requisiti e poi la commissione una commissione che avrebbe valutato diciamo i famosi requisiti di affidabilità organizzazioni di sicurezza che comunque erano dovevano essere in possesso di questi soggetti nonché tutta un'altra serie di requisiti addirittura legati agli aspetti bancari quindi di diciamo agli aspetti bancari di quindi di onorabilità dei soggetti che avrebbero dovuto fornire il servizio integrità del diciamo dell'integrità del soggetto diciamo dell'impresa che avrebbe quindi tutta una serie di 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 controlli che sono venuti meno in sintesi diciamo cosa è successo in sintesi è successo che con l'entrata diciamo con la predisposizione diciamo con l'entrata in vigore delle linee guida e del regolamento partire dal primo gennaio cosa succederà sicuramente l'impianto normativo precedente che sostanzialmente era costituito dal dei vari dpcm compreso il dpcm sulla conservazione e dalla circolare che comunque esplicitava i requisiti che devono possedere modalità di iscrizione tutto quello che era in qualche modo la procedura per ottenere l'accreditamento come conservatore diciamo la procedura di accreditamento e quindi poi figurare nell'elenco dei conservatori accreditati a partire dal primo gennaio viene meno questo comporta diciamo questo viene meno ovviamente come dicevo prima il cambio del contesto tecnologico cosa ha fatto ha fatto sì che comunque diciamo alcuni soggetti che erogano servizi di conservazione comunque si sono spostati verso la conservazione servizi di conservazione erogati via Sass quindi nella predisposizione di questo regolamento è stato necessario tenere in considerazione anche quelli che sono i requisiti per diciamo la qualificazione Sass quindi la cosiddetta qualificazione cloud quindi prevista da alcune circolari emanate da Agile e quindi che cosa è successo il regolamento è stato emanato e tiene conto degli aspetti legati alla conservazione in generale poi se e quindi il soggetto che vuole erogare il servizio di conservazione deve essere comunque compliance al regolamento poi se questo soggetto vuole erogare il servizio di conservazione anche diciamo via via con soluzioni cloud quindi con soluzioni Sass allora deve possedere anche i requisiti previsti dalla circolare cloud il regolamento diciamo quindi partendo da questo presupposto quindi dal 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 contesto iniziale sia di requisiti che diciamo già pensati per la conservazione e diciamo ragionando anche sull'evoluzione tecnologica sul nuovo contesto normativo sulla nuova spinta tecnologica da dare diciamo all'amministrazione diciamo è stato pensato questo regolamento questo regolamento cosa fa? Individo degli apposti requisiti alcuni che sono generali e quindi diciamo requisiti che devono essere posseduti a prescindere ovviamente tutti i requisiti devono essere posseduti a prescindere però alcuni sono più generici alcuni sono diciamo legati alla qualità del servizio di conservazione alcuni sono legati alla sicurezza e altri all'organizzazione quindi questo è stato lo schema che è stato dato nel regolamento è stato previsto un allegato in cui sono identificati questi requisiti che devono essere soddisfatti per poter diciamo erogare il servizio di conservazione ovviamente cosa succede al fine di dare evidenza di ciò che diciamo di ciò che di ciò che succede per quanto riguarda gli aspetti legati alla conservazione ricordiamo che partiamo da un presupposto da un contesto in cui c'è una diciamo c'è un DTCM c'è una circolare c'è ci sono una serie di requisiti da diciamo da rispettare c'è una procedura di accreditamento e c'è un elenco in cui i soggetti accreditati vanno a finire e quindi questo elenco è un elenco dal quale la pubblica amministrazione può pescare perché comunque ha diciamo tra virgolette la garanzia che quei soggetti iscritti all'elenco hanno i requisiti necessari a tal fine anche diciamo in questo contesto è stato introdotto un elenco però non è un elenco di soggetti verificati è un elenco di soggetti che dichiarano di avere i requisiti e quindi si vogliono iscrivere per diciamo avere visibilità attraverso questa vetrina ovviamente non diciamo è solo un'autodichiarazione che fanno quindi anche i soggetti come dicevo poco fa anche i soggetti non iscritti a questa vetrina possono regare i servizi di conservazione perché il diciamo la caratteristica principale e necessaria è quella che devono comunque possedere i requisiti poi se vogliono avere visibilità possono decidere di iscriversi a questo marketplace di Agid che ripeto è una vetrina allora cosa succede però proprio nell'ottica di in qualche modo avere visibilità di cosa succede allora nel regolamento è stato previsto anche un meccanismo sono stati previsti anche dei meccanismi allora il primo è che comunque se ci sono dei contratti già in essere con la pubblica amministrazione al momento dell'entrata in vigore del regolamento i soggetti che diciamo offrono il servizio potrebbero non più essere conservatori accreditati quindi potrebbero in qualche modo avere problemi nel dimostrare i requisiti perché non esiste più questo concetto quindi tuttavia diciamo è stato previsto che in questo caso se l'amministrazione può richiedere di al conservatore diciamo di il possesso dei requisiti può comunque dare a questi un tempo idoneo affinché li consegua e quindi poi proseguire il contratto l'altro aspetto è legato al fatto che ovviamente tutti i soggetti che non sono iscritti al marketplace nel momento in cui l'amministrazione è legato a questi soggetti cioè nel momento in cui l'amministrazione stipola un contratto con uno di questi soggetti deve inviare una copia del contratto ad Agile affinché possa fare diciamo le sue attività di verifica questa operazione va fatta entro 30 giorni dal momento della stipola di contratto in modo tale che Agile possa comunque verificare se il soggetto possiede i requisiti necessari previsti dal regolamento oltre a queste verifiche di cui abbiamo appena parlato è previsto che diciamo attualmente ora Agile effettua un'attività di vigilanza però è previsto che comunque farà un monitoraggio rispetto a questi contratti e rispetto a diciamo in generale rispetto a quanto dichiarano i conservatori che diciamo in qualche modo dichiarano di avere i requisiti ovviamente l'agenzia cosa farà farà delle verifiche in ogni momento in caso di diciamo non conformità potrà diciamo esercitare il potere di sanzioratorio previsto dall'articolo 32 bis del CAD inoltre in aggiunta a questa l'agenzia in caso di segnalazioni formali cioè se dovessero pervenire le segnalazioni formali potrà comunque intervenire per diciamo effettuare queste verifiche queste specifiche verifiche diciamo per verificare il possesso dei requisiti come abbiamo detto il regolamento diciamo possiede un diciamo è stato pensato e predisposto come un documento principale che è strutturato in nove articoli e poi ci sono degli allegati il primo allegato è l'allegato A che indica dove sono come abbiamo appena detto indicati i requisiti necessari per erogare il servizio di conservazione l'allegato B è il piano di cessazione questo piano di cessazione deve essere comunque allegato qualora il conservatore voglia diventare il conservatore qualificato e quindi iscriversi al marketplace in ogni caso questo documento deve essere predisposto sempre perché è uno dei requisiti che devono essere diciamo posseduti per erogare il servizio di conservazione anche dei soggetti non iscritti al marketplace per quanto riguarda il diciamo il processo che ha portato il processo che ha portato al diciamo al completamento alla predisposizione e alla realizzazione del regolamento diciamo come è stato già più volte detto Agit ha comunque condiviso le bozze di documenti anche come diceva il collega prima con l'ufficio del ministero con i vari soggetti che in qualche modo intervengono diciamo per quanto riguarda gli aspetti diciamo lavorano e sono rilevanti per quanto riguarda l'aspetto della conservazione ovviamente anche in questo caso per questo regolamento non era previsto che facesse una condivisione una consultazione ha comunque inviato il documento a questi soggetti principali e ne ha ricevuto delle osservazioni ovviamente queste osservazioni diciamo sono state quanto possibile sono state anche recepite alcune di queste diciamo le osservazioni che principalmente sono arrivate ad Agit hanno allora in questa fase era stato diciamo un termine per l'invio delle conservazioni delle osservazioni che era il 20 di maggio a quella data sono pervenute tutte le osservazioni e sostanzialmente sono le condizioni alle seguenti il primo la prima osservazione è il fatto che i profili professionali precedentemente previsti cambiano ovviamente questo ha da un primo punto di vista ha un diciamo sempre una cosa peggiorativa invece non non proprio è così perché i soggetti che attualmente sono conservatori accreditati comunque diciamo possiedono nell'organigramma queste figure professionali che hanno dei ruoli ben precise e dei compiti quindi qualora dovessero e sono in un numero maggiore perché precedentemente erano previsti un numero maggiore di figure quindi qualora decidessero di in qualche modo cambiare gli organigrammi dovrebbero comunque diciamo di non utilizzare più queste figure dovrebbero comunque cambiare gli organigrammi un'altra critica è stata data per quanto riguarda l'utilizzo degli standard però diciamo in questo contesto si è tenuti diciamo si è provati a Agida ha provato a tenere in considerazione e ha indicato gli standard più importanti per quanto riguarda la materia quindi in qualche modo il numero di standard e la tipologia di questi standard erano quelli che al momento garantivano le maggiori come dire il maggior risultato per quanto riguarda gli aspetti legati alla conservazione ovviamente poi ci sono state altre osservazioni anche riguardo alla scadenza della qualificazione che è diciamo il tempo di iscrizione al marketplace la durata di iscrizione di 48 mesi quindi anche su questo e anche poi sul fatto che non diciamo non necessariamente esiste un non c'è l'obbligo di iscrizione al marketplace ovviamente diciamo la norma ovviamente cos'è successo il regolamento è stato comunque è stato comunque imposto è stato necessario produrre questo regolamento in tempi molto brevi anche se il contesto normativo sta cambiando Agit sta diciamo sta seguendo il tavolo diciamo i vari tavoli dove comunque si sta lavorando si sta lavorando anche per l'aggiornamento di EIDAS e l'unica cosa è che i tempi sono imprecisati e quindi per questo motivo è stato necessario prodisporre il regolamento qualora dovesse cambiare il contesto normativo Agit aggiornerà velocemente il regolamento l'ultima slide è questa dal primo gennaio sarà online diciamo la piattaforma attraverso la quale i soggetti che vogliono qualificarsi potranno potranno diciamo effettuare la procedura sulla piattaforma saranno indicati le modalità e poi come abbiamo già detto ci sarà anche l'elenco di questi soggetti quindi a breve verrà resa disponibile una versione una versione che però diciamo la qualificazione avverrà potrà essere effettuata a partire dal primo gennaio quindi anche se la piattaforma sarà online la qualificazione potrà essere effettuata dal primo gennaio avrei finito grazie 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 siamo siamo andati un po' lunghi sui tempi ma il programma era molto intenso e abbiamo ricevuto veramente tantissime domande alle quali non saremo in grado di rispondere adesso perché non possiamo sono tante e non possiamo andare tanto oltre il tempo quindi io chiedo chiedo ai relatori di intervenire se possono dare qualche risposta a qualcuna delle domande che sono risultate più ricorrenti che abbiamo visto ripetersi e poi troveremo il modo la modalità per cercare di rispondere anche in altre occasioni come questa grazie Patrizia se non ti sentiamo non ti sentiamo di nuovo posso provare con una che ho che ho letto sì grazie Federica Barison Barison chiede se la conferma dei documenti nanologici che vengono scansionati al momento della registrazione protocollo da quale strumento viene attestato strumento viene attestato dal funzionario protocollatore presso l'amministrazione pubblica e lui che diciamo attesta questa conformità allora quando provvede alla scansione direttamente magari allo sportello arriva appunto una persona che è presente un'istanza analogica provvederà lui stesso alla scansione del documento e quindi a questo controllo a questo confronto a uno a uno per così dire tra documento informatico e documento analogico ah ecco poi ma cosa cosa si intende per l'otto domanda Ferraro Eugenio allora sostanzialmente intendiamo no scusa sì sempre Ferraro intendiamo un insieme di documenti che hanno caratteristiche simili diciamo per forma e per contenuto quindi se io so già presso quale fascicolo poi dovrà essere conservato il documento così prodotto e ha la medesima forma stiamo parlando di un formato A4 per intenderci ad esempio io avrò settato i parametri del software di scansione in una maniera specifica e quindi per me quell'insieme di documenti rappresenterà un lotto di documenti anche perché un diverso settaggio della macchina impone evidentemente un lavoro di diversi di altri documenti quindi appartenenti ad un altro lotto ad un altro insieme quindi in questo senso lo intendiamo non so poi se i colleghi pure hanno visto qualcosa non voglio prendere spazio vorrei rispondere a qualche domanda allora la prima è di Barbara Grasso resta in capo alla PIA la responsabilità della verifica sui conservatori delegati nel rispetto dei requisiti richiesti per l'erogazione a norma del servizio di conservazione che valore ha l'autocertificazione che la PIA può e deve richiedere al fornitore di servizio di conservazione la verifica resta sempre in capo alla PIA perché il responsabile è il titolare dei documenti e il responsabile dei documenti è la pubblica amministrazione l'autocertificazione è solo un elemento che diciamo in qualche modo dà visibilità del fatto che questo soggetto dichiara di avere i requisiti quindi lo sta dichiarando ovviamente come tutte le cose ci sono stati anche conservatori accreditati che ad un certo punto hanno perso i requisiti quindi l'autocertificazione diciamo l'iscrizione al marketplace non è la certezza è solo che abbiano i requisiti è solo il fatto che comunque è un ambiente un po' più più chiuso dove Agit in qualche modo fa le sue verifiche però le verifiche Agit le farà tutti i conservatori che erano dei servizi per la PIA poi allora c'è un'altra domanda di Alberto Reverberi quindi si passa dai soggetti che debbano che debbano essere accreditati da Agit a soggetti che debbano essere presenti sul catalogo SAS del marketplace di Agit sul catalogo SAS del marketplace di Agit vanno a finire nel momento in cui erogano servizi di conservazione SAS e quindi come abbiamo detto devono possedere i requisiti previsti dal regolamento per quanto riguarda la conservazione in più devono possedere anche i requisiti previsti dalla circolare sul cloud per quanto riguarda i servizi SAS Scusa Luigi mi sentite adesso? Sì io non ne vedo al momento che mi interessa Ti volevo solo interrompere perché ce ne sono due che diciamo secondo me vanno due dubbi che vanno chiariti subito intanto non c'è nessuna proroga in atto quindi mancano 15 giorni e questo è il termine previsto non stiamo facendo nessuna azione in questo senso c'è una domanda di dunque questa persona che si chiama Lodovico Comploi il quale dice risulterebbe in corso di emissione da parte dell'Agi di un chiarimento volto ad escludere per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni l'obbligo di applicazione delle misure organizzative illustrate allora io non so dove risulti una cosa del genere perché non è vero nel senso che non stiamo emettendo nessun tipo di documento in questo senso stiamo per emettere un documento di guida dell'applicazione dell'allegato 5 ai documenti di natura contabile quindi una guida operativa a come applicare l'allegato 5 non esiste nessun documento che specifica che per i privati le cose sono diverse ricordiamo che nelle linee guida al capitolo mi sembra 1.2 si dice esplicitamente a chi si riferiscono le linee guida e si fa riferimento all'articolo del CAD dove è chiaramente detto che tutte le disposizioni del CAD e delle linee guida su documento informatico firma digitale e altri contesti si applicano anche ai privati a meno che non ci sia una diciamo normativa contraria quindi questo credo che sia un po' diciamo uno delle domande che poi principali che sono state come dire poste in varie modalità ma insomma di fondo il concetto è si applicano anche ai privati le linee guida sì a meno che non ci sia una diversità e non è un problema di linee guida è il CAD che lo prevede già dal 2017 le linee guida hanno solo evidenziato questo questo obbligo scusate volevo chiarire questo perché ho visto che molte delle domande erano su questi termini per cui e altra cosa che ovviamente tutto questo si applica per i documenti che vengono prodotti dal primo gennaio in poi non c'è una regressione naturalmente sì direi che questa era una propria domanda scusate sì è molto è molto tardi proprio qualche domanda flash perché avremmo dovuto chiedere le 11.30 e i partecipanti stanno si stanno allontanando quindi vedete voi ma proprio direi qua ce n'è una di Giovanni Alpano vabbè un altro paio e poi chiudiamo è corretto affermare questo sconfino è corretto affermare che un'amministrazione che utilizza il solo protocollo abbia una sola area organizzativa omogenea è il contrario diciamo per ogni area organizzativa omogenea deve essere previsto un sistema di diciamo di protocollo ce n'era una che riguardava il manuale di gestione il manuale di gestione deve essere uno che ora non ricordo qual era una signora che diceva che il manuale di gestione del proprio comune se non ricordo male risaliva al 2013 e volevano sapere se era necessario aggiornare quello e fare uno nuovo allora il manuale di gestione è uno di quegli strumenti che deve essere tenuto aggiornato quindi il fatto che risalda il 2013 non è ostativo e il fatto se è stato mantenuto aggiornato nel tempo quindi sicuramente a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento e dalle linee guida sarà necessaria ma perché sicuramente cambieranno gli aspetti come dicevano i colleghi alcuni aspetti legati alla certificazione cioè alla digitalizzazione oppure all'interoperabilità oppure alla metadattazione quindi comunque diciamo in qualche modo i formati quindi comunque dovranno essere esplicitati nel diciamo volendo restare sulle linee guida dovranno essere esplicitate sul manuale di gestione io direi di con questo chiudo sì allora a questo punto possiamo chiudere troveremo il modo per rispondere a queste domande vi faremo sapere nel breve come come potremmo andare incontro a questa richiesta se i colleghi non devono aggiungere altro vi ringraziamo vi ringraziamo per la partecipazione per l'interesse vi diamo appuntamento alle prossime webinar grazie 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 a voi ciao grazie